John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video La Juventus vince anche questa, vince con il Leverkulo per 0-2 Segnano Di Bala e Ronaldo, no Di Bala insegna Segnano Iguain e Ronaldo, anzi Ronaldo e Guain nell'ordine Sul doppio assist di Paolo Di Bala Allora, a parte che la partita ci interessava poco e niente Perché nel senso, penso anche a un tifoso della Juventus Magari interessava perché facevano due soldi Due milioni e mezzo mi sembra si vince Si vinca ogni vittoria, gli diano due milioni e mezzo E uno e mezzo per il parigi dovrebbe essere più o meno così E niente, vabbè, quindi insomma, sotto quel punto di vista Magari interessava anche a un tifoso della Juventus vincere Però la gara interessava relativamente poco La Juventus era già passata da prima con un turno d'anticipo Oggi andava un pochino per, come posso dire, per rappresentanza E devo dire che in questa giornata di Champions Ho avuto tre dimostrazioni fondamentali Di come si giochi a calcio Ma non nel senso tipo come si gioca a pallone Ma nel senso di come si rende omaggio al mondo del calcio La prima è avvenuta dal Barcellona contro l'Inter Che nonostante abbia messo i panchinari Hanno vinto Cinque panchinari Altri sei erano titolari A parte no A parte no Non erano sei titolari Non dite cazzate No Perché la gente ha un titolo a titolare E l'inglese è titolare N'è vero Pichet è a titolare Quindi se qua due soldi centrali Com'è possibile che qui due soldi Vabbè poi ne parliamo in un altro video Buschets è a titolare Non è titolare Cioè Buschets Raghi dice Raghi c'è titolare Non è titolare Raghi non gioca mai Vitale è titolare Vitale è titolare Non gioca mai Suarez era titolare Per dire Crisman è titolare Comunque al di là di questo Il Barcellona ha giocato con alcuni panchinari Però comunque Ha onorato l'impegno La Juventus ha onorato l'impegno Tra l'altro C'è la difesa Molto molto rassetta Però ragazzi davanti hanno giocato Praticamente tutti A ruota hanno giocato tutti E poi anche il Il Manchester City Oggi ha rispettato l'impegno Perdeva Zagabria contro la Dinamo Rimonto ed ha vinto 3 a 1 Mi sembra Quindi nel senso Hanno tutti rispettato il proprio impegno E quindi sono molto molto contato Di vedere queste cose Non Delle inutili partite In cui vince la squadra Che deve vincere per forza Contra una squadra Che ha già ottenuto il proprio obiettivo Non che cambiasse nulla Perché se non sbaglio Anche se Leverkusen avesse vinto Contro la Juventus Comunque non sarebbe passato Visto che l'Atletico Ha vinto a forza dei rigori 2 a 0 di là Primo l'ha sbagliato Il secondo c'è Felix l'ha segnato E poi appunto L'Atletico Vinceva 2 a 0 Avrà vinto 2 a 0 Comunque stava vincendo La Juventus Se vince Cioè io penso che I tifosi della Juventus In questo momento Staranno dicendo Ok A partita abbiamo visto Abbiamo vinto Sono contento Starà dicendo un tifoso della Juventus Però c'è uno spunto importante Sul quale si può parlare ore Io non parlerò ore Perché c'ho sonno Però si può parlare ore Di questo spunto importante Ovvero Ronaldo, Di Bala e Guain Maggiore con quei tre davanti Con Ronaldo a sinistra Di Bala a destra E Guain punta La butto lì Sarebbe una Juventus ultra offensiva Sì Però ragazzi Il Barça per anni ha giocato Suarez, Neymar, Messi Che è la stessa cosa Cioè in Real Madrid ha giocato Con Ronaldo, Bale e Benzema Che è la stessa cosa Quindi mi domando Perché la Juventus Non possa giocare così Secondo me una Juventus In questo modo Tutta stelle Secondo me sarebbe il top Cioè questo sarebbe il modo In cui la Juventus Potrebbe provare a vincere Secondo me la Champions Boh Non lo so Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Qualora l'aveste già fatto Complimentate la Juventus Per quest'altra vittoria Vince quindi 0 a 2 Grazie per aver visto questo video Buonasera da Lene come sempre Ci vediamo un prossimo video